Sapevamo di affrontare un avversario difficile e arrabbiato, che ha dei problemi, soprattutto di infortuni, di mancanza di uomini. Credo che la partita si sa, è determinante, gli episodi sono determinanti. Noi abbiamo sbloccato la partita, dopo siamo andati in grossissime difficoltà, dove Castro Villere ci ha messo in difficoltà, soprattutto nelle ripartenze, ci trovavamo molto aperti. Ma i ragazzi oggi volevano dare una risposta a quella sfortunata partita che abbiamo fatto domenica. Credo che con l'Igea abbiamo fatto una partita importantissima, però abbiamo perso. Oggi sicuramente è stata una partita molto più equilibrata e abbiamo vinto. Si sa, il calcio è questo, abbiamo accettato la sconfitta domenica e prendiamo con tanta felicità in un campo difficile come Castro Villere. Siamo contenti, ho detto ai tuoi colleghi che questa vittoria vogliamo dedicare al nostro padre spirituale, che ieri sera è venuto a mancare. Don grazie all'Abiso, una figura che per noi è stata sempre un punto di riferimento. Siamo contenti di dedicargli questa vittoria e fare complimenti ai miei ragazzi. Un'ultima battuta, non le chiedo del rigore perché comunque le immagini parlano da sole. La munizione combinata al capitano del Castro Villere d'Angelo, a noi ci è sembrata eccessiva? Non c'è stato nessun colpo al giocatore se non il gomito appoggiato sulla spalla? Non le sembra eccessivo? Se fosse capitato al suo giocatore si sarebbe arrabbiato? Guarda, domenica noi abbiamo avuto un'espulsione di un giocatore lontano dalla palla. Un giocatore, Evole, ha fatto un fallo e è stato munito l'undice. Oggi ci mancava Kosovan. Io credo che dobbiamo pensare solo alla buona fede di questi benedetti albitri che si fanno chilometri come noi. Io credo che abbiamo accettato quell'espulsione, doppia munizione, abbiamo giocato in 10 con 2 a 0 in casa. Però noi non possiamo cambiare queste decisioni. Noi possiamo solo subirle. Credo che succeda a tutti. Io credo che, l'ho detto prima, la buona fede di questi signori che veramente ci mettono la faccia. Dobbiamo accettarli, condividerli e andare avanti. Una squadra è sotto di tre golle. I tifosi fino alla fine applaudono a scena aperta. È una gran bella cosa questa, al di là della partita di cui parleremo dopo. Io penso di essere una persona pragmatica, mi distacco sempre da tutto questo, però quello che ho visto oggi è qualcosa di indescrivibile che mi ha dato l'ennesima lezione di vita. Non so come ringraziarli, se non con la promessa che darò l'anima, sputerò sangue per raggiungere la salvezza perché gliela devo a questo punto. Mi ringrazio, mi ringrazio, mi chiedo scusa. Non finirò veramente mai di staccarmi da questo pubblico, dagli ultra che in settimana avevo cercato di chiamare per darmi una mano. Oggi me l'hanno dato e come? Non ho ripagato quello che mi hanno dato. Forse mai ripagherò quello che di bello ho visto oggi.